Previously on Vecchietti Pepe! Allora è stato il nostro vicino! Il dottor Bonetti! Il geriatrico! Ma si lui lui lui! Dicono! Dicono che è il serial killer dei vecchietti! Ah si? Si pensa che mio nipote? Eh? Mio nipote Simone Ma regalò questo qui fa tante cose Ma Mimmo Era mica sposato con una certa Franca? Franca? Si si Franca! Era mia moglie Ah la teginetta! Come sta la teginetta? E' fin troppo bene! Si vedeva sempre la teginetta dalla finestra E anche quando andavamo a messa Innanzitutto complimenti per la trasmissione Ti lo dici a tutti Pensa che mi lasciava sempre l'ascensore aperto Quando mi incontrava per le strade E te la lascerei anch'io aperto con tutte le tortine di verdure che mangi Mi è venuto a trovare mia nipote Angiolina Ah si? Eh si sono preoccupato Ma si? Non sono riuscito a capire Eh? Che lavoro voglio fare Ma certo questo è uno smartphone eh? Oh è uno smartphone! La mia nipote invece è in accidente Sta tutto il giorno davanti a quella televisione o computer Ma computer? Non vorrei che mi diventasse come quella la Ah ma allora è questa pagina che mi ha aperto la mia nipote Ah E sta sempre davanti al computer a parlarti quella lì mentre si impiastrinca la faccia ma Tua nuora! Mia nuora? Sì lei Quella la? Sì Angi! 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 Ma non lo vedi? Ma non si mettono così i foratini? No Ma tu? Sei capace di tagliare? Sì! Ma lo sai che ogni volta che torna da messa ti fa una testa tanta? E' che c'è quello la che sta morendo E' quell'altro che sta male E' quell'altro che lavora dall'ospedale Mamma mia quello lì Tutte mattine usa ferma i miei necrologi Ma uno ha nient'altro da fare? E com'è che uccideva solo vecchietti? No stavi guardando i necrologi ti vedo anche tu? E va bene li stavo guardando No 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 io oggi non posso perchè solo a dire Sei a dire? Sì Appena appena niente niente che esce un po' di sole E tac che ti arrivano tutti questi foresti Come sono diventato bravo Beppe I'm Frank Frank Oh Maybe I have a picture Oh Sai che quando c'era lui Almeno le cose funzionavano Cheese Cheese Yeah All right All right Interrompiamo la programmazione regolare per una notizia dell'ultima ora E' appena evaso quello che ormai è conosciuto come serial killer dei vecchietti Le autorità invitano la cittadinanza anziana a prestare attenzione E a diffidare di un medico armato di coltello da caccia Che vi invita in studio dopo l'orario di visita regolare All right 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 All right